Siamo Franz e Arianna. Siamo il gruppo Uscub, si pronuncia con la U e portiamo una canzone di musica balcanica del repertorio tradizionale, Macedone. Ci siamo iscritti al concorso perché Arianna mi ha contattato, io non sapevo prima che ci fosse. Penso che portare qualcosa di così diverso sia un tributo buono alla diversità delle varie culture. O, moja rosna, len omori decelino. Noi vi invitiamo a vedere la finale nostra perché proporremo questa stessa canzone che avete ascoltato in una versione orchestrale con una big band balcanica, quindi non solo vi faremo ballare come tutti gli altri, però vi faremo veramente divertire e sarà una versione di una potenza incredibile.